Nel terzo trimestre del 2019 la crescita del reddito delle famiglie si è tradotta in maggiore consumi, con un aumento della spesa dello 0,4% rispetto al secondo trimestre. Lo rileva l'Istat aggiungendo che ne consegue una marginale riduzione della propensione al risparmio, pari all'8,9%, vale a dire meno 0,1 punti percentuali sul trimestre precedente. Tale flessione, spiega l'Istituto di Statistica, deriva da una crescita della spesa per consumi finali lievemente più sostenuta rispetto a quella registrata per il reddito disponibile lordo, più 0,4% e più 0,3% rispettivamente. Il reddito disponibile delle famiglie infatti nel terzo trimestre del 2019 sale ancora, è in positivo dall'inizio dell'anno, ma la crescita congiunturale, pari allo 0,3%, perde vigore rispetto al trimestre precedente. Stesso discorso per il potere d'acquisto, che registra identici valori. Grazie alla dinamica dell'inflazione nulla nel terzo trimestre 2019, l'indebitamento delle amministrazioni pubbliche in rapporto al prodotto interno lordo è stata pari all'1,8%, invariato sullo stesso trimestre del 2018. Grazie a tutti.